Previsioni meteo per sabato 19 settembre. Al nord, gran parte di giornata con sole prevalente, anche se con la presenza di qualche banco di nubi, alta in transito. Peggiore in serata. Al centro, tempo stabile e soleggiato grazie all'alta pressione. Locali note instabili tra pomeriggio e sera sulle interne sarde e su rilievi laziali ed abruzzesi. Al sud, giornata di bel tempo su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l'arco della giornata. Venti moderati. Mari tra poco mossi e mossi. Temperature in calo.